Sono abbastanza curioso di vedere chi metteranno come ultimo personaggio Peggy 12 Scopriamolo Se mettono Sora, porca troia Lo scontro finale Buongiorno Ahah Ah beh, certo, giustamente Oh no Ah sì, aggiungiamo nuovi elementi ai miei Stavolta sono pochi, promesso, va bene Vediamoli Ok Oh Oh Bello, bello Guarda Probabilmente non quello che si aspettava la gente Ma sostanzialmente è qualcosa È un'armatura di tutto rispetto Bella L'armatura mi è piaciuta Doom Slayer, tutto quanto Ne è valsa la pena solo per lui Doom Slayer, ok Doom Slayer non mi è dispiaciuto Totale, totale È proprio fatta bene quella No, non ce l'aspettavamo Non ce l'aspettavamo Non ce l'aspettavamo Non ce l'aspettavamo Ed è un'aspettavamo Che è un'aspettavamo Eh beh, sì Soprattutto Ho i brividi, eh Ho i brividi Dai Dacelo Mi dispiace ma non sarà Waluigi Mi dispiace ma non sarà Waluigi Ragazzi Bello che sono tutti lì fermi Mi è piaciuta questa cosa Si sta spegnendo No L'ultima No Se hanno messo Se hanno messo Dark Soul Piango Ho visto una fiamma Ho pensato subito a quello Eh sì È l'ultima fiamma Vabbè giustamente Fiamma va Mario Sicuramente No dai ti prego Si sta immolando Per la fiamma Mario No ti prego No forse sono andato troppo In là Sì Cazzo sì L'hanno fatto Alla fine Sì Sì Cazzo sì Oh no Dov'è il telefono Devo Devo piangere Sì Sora Cazzo Let's go e fino a il pietro qui eeeeh to vatasi desula odoroite si imbiasu ma King Graham Hearts cara Sorano san sen desu no se mettono i costumi per tutte quante le varie vedizioni di Sorano muoio io non è non è ma non è 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 No se cambiano anche i Keyblade Con i costumi Muoio sul serio Dopo Waluigi Io ho scritto veramente Sora L'ho fatto veramente su questo Compro la Switch solo per Sora Ragazzi Me ne frega un cazzo Dio santo Dai ti prego Fammi vedere i costumi Sì ovviamente Bello Dai 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 fammi vedere gli altri Kingdom Hearts The End of Distance Kingdom Hearts Tresora Basta Sono quattro colori Dai Fa vedere il G5 Ok Le fusioni Ma dai Ma che figo No c'è anche quella bianca quindi Eh sì l'ultima Bello Però non c'è la Master No questa no Cioè avrei preferito la Master Serio La gialla Vediamo le mosse speciali Saranno gli attacchi magici Ok Si alterna Non mi piace Ah figo te lo dice anche quale Che tra l'altro lo stesso menu di Coded Che tra l'altro animazione dei fulmini Mi sembra la stessa di quella di Pikachu Eccola qua ti prego fammi vedere la mossa finale Fammi vedere lo Smash Dai 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 Non me ne frega un cazzo del nome Voglio vederlo Oh Aspè Nuovo scenario Eh dai La Hall of Bastion Serio Bello Figo Bello Bello Mi è piaciuto Non mi piace che è fluttuante Lo preferivo Ferma Statica A questo punto Ok Non mi piace che è fluttuo Non mi piace che è fluttuo Che è fluttuo Ok Cosa succede? Nooo Che figo Che figata Che figata Bello 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 sì Anche se preferivo averne due distaccati a questo punto Ma è molto bello Bello che hanno fatto anche le varianti Dai Anche No dai Hanno fatto Xion Con Terra Acqua Ven Sicuro Eh beh certo Eventus non ha nessuno però Acqua sì Giustamente Bravi Complimenti Giustamente Guarda Era abbastanza ovvio Che avrebbe fatto una roba del genere Ma che bravo Sakurai però eh Sephiroth però è forte Sephiroth gli sta facendo il culo Claude le sta prendendo male Dai Eccola Dai ti prego No No vabbè dai Madonna l'ha evitata Che culo Bello Allora Mi aspettavo qualcosa di un po' più particolare Per la mossa finale Tipo la trasformazione Nella Con l'ultima Con l'ultima weapon Però è figo Molto bello Cioè speravo qualcosa un po' di più per la mossa finale Però Bello il fatto che c'è la porta di Smash Molto bello Molto bello anche il finale Complimenti Sakurai Complimenti a Sakurai Yes Come incazzato Claude però Bello guarda Sono contento Sono contento tanto Amiibo Cioè Voglio quell'Amiibo Voglio l'Amiibo di Sora Voglio l'Amiibo di Sora No non è vero però Voglio quello di Sora No dai No vabbè No vabbè Kingdom Hearts anche su Switch Dai Hanno praticamente fatto in modo che chiunque possa giocare a Kingdom Hearts Su questo sono contento Vediamo dov'è Un po' dietro eh Bello però dai Me lo voglio stampato in camera Una roba del genere Bello Voglio quel cazzo di cartellone Questo è vero Complimenti veramente Questo è stato forse lo smash più grande di tutti Finora Io spero che nei successivi Diano ancora la licenza per Sora Sincero Se faranno un altro smash o altri smash Spero che Sora rimarrà nel roster Nel roster Lo ammetto sincero Fino all'ultimo istante Ho pensato a Dark Soul Voglio essere sincero La fiamma messa lì così La fiamma che si spegne Mario che si imbola per la fiamma Era particolare Cioè guardalo Guarda se non è uno scenario da Dark Soul L'oscurità Tutto quanto che diventa Ollo in pratica Ho i brividi Ho i brividi Cristo Guarda guarda Tutti senza anima Tutti fermi Tutti amiibo L'unico ovviamente Che si sveglia Mario Uno dei personaggi Simbolo di questa saga Che Va a prendere Questa fiamma Cioè guarda Guarda se non è Dark Soul Questa cosa Però Effettivamente A riguardarlo adesso Quello sgritolarsi di luce Effettivamente Richiamava molto Molto Kingdom Hearts Però dai Guarda Ha anche paura Di avvicinarsi Era palesemente Una citazione A Dark Soul L'hanno voluta Lasciare fino alla fine Però ora Si può dire Che anche Mario Ha impugnato il Keyblade Si può dire Che anche Mario Ha impugnato un Keyblade Ora Però Pensalo da questo Punto di vista Questo è palesemente Sora che entra Dal finale Di Di Remind Perché Sora Sta dormendo qui Bloccato nel tempo E poi appare In Smash È stato Bellissimo Guarda Bellissimo Che è stato L'ultimo personaggio L'avessero fatto Prima Sarebbe stato Molto meno Impattante Adesso Che è tutto Finito Lui è l'ultimo Arrivato Complimenti Veramente Let's go Ecco Bello 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 Non ho Null'altro Da dire Complimenti Dai Queste cose Però mi Mi fate morire Bello Con Claude Avrei Però Preferito Al posto Di quello Del Del fiume Del tempo Il costume Della fusione Gialla La fusione Master L'attacco Finale È carino Ma Avrei preferito Qualcosa Di un po' Più Impattante Bello Però Mi è piaciuto Ma Avrei preferito Qualcosa Di un pelo Più diverso Per l'attacco Finale Dai Con Kyrie Freebooter Io vi amo Tutti Tan 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 Tar 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 È stato Bellissimo Bello, porca troia, bello.